Musica Continua a salire l'allarme smog a Pechino dove oggi i bambini ed anziani sono stati invitati a restare in casa e la popolazione è stata essortata ad usare i mezzi pubblici. Dopo aver portato ieri l'allerta a livello giallo, oggi le autorità nella capitale cinese l'hanno innalzata ancora fino a livello arancione, il penultimo più alto della scala dal blu al rosso per indicare il tasso di inquinamento atmosferico. L'allarme prevede che vengono anche bloccate le attività di alcuni impianti industriali particolarmente inquinanti.